Si arricchisce di nuova strumentazione il laboratorio analisi del presidio ospedaliero di Agropoli. Con delibera del commissario numero 255 del 21 marzo 2019 è stata operata una procedura negoziata per il completamento del pannello analisi di chimica, chimica clinica e immunochimica da destinare al laboratorio di analisi del presidio ospedaliero di Agropoli. Tale fornitura per 210 mila euro circa è stata giudicata ad una ditta di Monza. Intanto, in attesa che il laboratorio diventi operativo H24, i dati di marzo scorso svelano un'attività notevole. Sono stati infatti ben 30 mila gli esami svolti. A darne notizia è il direttore responsabile dell'unità operativa di patologia clinica del presidio ospedaliero di Agropoli, il dottor Marcello Ametrano. La nostra struttura, sottolineato Ametrano, è stata in grado di assicurare lo svolgimento ordinario dell'attività nella straordinarietà riferita al presidio di Agropoli, visto che l'operatività vera e propria del laboratorio è iniziata dal mese di luglio 2018, sia con l'esecuzione degli esami interni ed esterni e sia dell'implementazione di nuove metodiche, esaurito il tetto di spesa della regione Campania per alcune visite ed analisi di laboratorio, con la sospensione delle esenzioni presso le strutture convenzionate ed immancabili disagi, soprattutto per gli anziani e le fasce di utenza esenti dal pagamento del ticket. Il laboratorio si è invece impegnato ad assicurare l'assistenza specialistica ambulatoriale senza interruzioni e nel corso del mese di marzo 2019 sono stati eseguiti oltre 30.000 esami. Il percorso intrapreso, afferma il sindaco Coppola, continua a piccoli passi a dare i frutti. I numeri di esami svolti nel solo mese di marzo scorso, pari a 30.000, dimostrano l'importanza del servizio e la funzionalità dello stesso. Questo, come quello di radiologia che vanno implementati, devono costituire l'ossatura per ricostruire un pronto soccorso medico H24. Abbiamo tutti a cuore la salute nostra e dei nostri cari, per questo approfondiamo il massimo impegno affinché torni ad essere tutelata.